Cazzo, mi sembra più lungo il DLC che di Akane. Cos'è questo? No, ma infatti, guarda che a dire sì, soprattutto per il rindo, sì sì, è quasi obbligatorio. Che cazzo sta facendo questo? Ma veramente? Comunque come saga non è, che mi traccio tantissimo, no. Gli ultimi film sono molto belli. Che è una nascita di me. Se devi andare all'ospedale, saluti. Vado domani. Gio Cane! No, non nel senso che è gente fissata, però tutti lo conoscono, tutti i miei... Il topo di merda deve farsi cazzo sua, porco Dio! Gio Cane. Manca solo che il topo salga alle scale, porco Dio, poi siamo a posto. Niente, e il cane mi butta giù, e il cane mi butta giù dei topi. Dio Cane, Dio Cane la Madonna. Faffanculo. Lasciami andare, topo di merda, porco Dio, tu madre è una roba... Dio Cane! Ma tu non sai che cazzo è successo, fra tu non lo... No, 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 i topi! Cosa sta facendo? Dio Cane, i topi! Cosa è bello... Oddio, porco... Anzi, ma sicuramente si può saltare da qua, da qua, là. No. Guarda che forza si può fare. Un peperino. Un sportivo. Sì. Io voglio farmi la spada del full medio, Cane. No, tutti... tutti e due insieme. Dov'è la robina? Tutte le... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info